Un abbraccio a tutti voi e al di là dell'abbraccio l'orgoglio finalmente ad aver portato i primi risultati concreti per aiutare italiani che non meritano di essere dimenticati. Il 12 dicembre scorso finalmente in Consiglio dei Ministri il primo passo per il riconoscimento ufficiale anche in Italia e siamo già in ritardo di anni e anni della lingua italiana dei segni sempre in queste settimane i primi 6 milioni di euro per l'insegnamento della lingua italiana dei segni ai ragazzi che ne hanno bisogno e altri 7 milioni di euro per progetti sperimentali per l'interpretariato nella lingua dei segni per le pubbliche amministrazioni e i posti di lavoro e poi sto anche personalmente lavorando in Rai perché siccome tutti pagano il canone per la televisione pubblica è giusto che tutti possano godersi i belli o brutti programmi della televisione pubblica. Un abbraccio a tutti voi come se foste sorelle e fratelli, grazie per la fiducia e il mio impegno totale è essere il prima possibile in mezzo a voi con altri risultati concreti. Grazie. Grazie.